Ciao a tutti, questa è la recensione del piccolo microfono Mediacom l'ho comprato 4 anni fa, l'ho pagato 2 euro ci ho fatto un po' di podcasting per prova ma la qualità non è dei migliori è un piccolo microfono dinamico e ponendo il guadagno basso del microfono praticamente la registrazione è quasi nulla ponendo il livello di guadagno del microfono al massimo la registrazione diventa decente ma occorre parlare molto piano, molto lentamente e fare attenzione a non alzare la voce perché altrimenti schiocca non oltre a stare molto vicini al microfono altrimenti la registrazione diventa veramente pessima nonostante questo, alla fine e ascoltando la registrazione occorre sempre dare un po' di editing per alzare il volume perché nonostante il guadagno del microfono sia posto al massimo i valori di registrazione di campionamento sono piuttosto modesti d'altronde per 2 euro non è che ci si possa attendere poi molto è comunque un buon microfonino da utilizzarsi per Skype o comunque per brevi conversazioni con una qualità audio prossima ad una trasmissione telefonica non di più praticamente perché non è uno strumento idoneo per fare il podcasting grazie, ciao